Il gruppo venerdì ascolterà l'amministratore unico di ACS. È stato lo stesso Amedeo Gabrielli a chiedere al giudice per le indagini preliminari di essere ascoltato. La richiesta è stata accolta e tra quattro giorni l'ex amministratore di azienda Città Servizi comparirà in tribunale. La decisione di Gabrielli arriva dopo che lo scorso 28 maggio il Tribunale del Resame ha confermato le misure cautelari per tutti e sei gli indagati nell'inchiesta, confermando dunque i domiciliari per Gabrielli, difeso dall'avvocato Di Martino, il divieto di dimora ad Avellino per la dipendente Luciana Giuliano e per i gestori delle cooperative finite nel mirino della Procura, Sergio Galluccio, Vincenzo Marciano, Maura Quino, ex presidente della Casa sulla Roccia e Giuseppe Freda. Intanto l'inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Avellino non è ancora chiusa. La lista degli indagati, nello scandalo che ha travolto la società in house del Comune, potrebbe allungarsi a giorni. Sarebbero stati identificati soggetti che con il loro comportamento avrebbero avallato il sistema di favori in cambio di voti. Il procuratore aggiunto, Vincenzo Donofrio infatti, nei giorni scorsi proprio in sede di udienza al riesame, ha presentato una nuova documentazione relativa alle indagini ancora in corso sui fatti collegati ai reati di corruzione e peculato per i quali nelle scorse settimane il GIP ha firmato le misure cautelari confermate dal Tribunale delle Libertà di Napoli.